Il battibecco tra Mohammed Ali e la donna del pubblico era continuo e sempre più teso. Ma quel che era stato usato come una difesa da parte della donna non è stato altro che una scintilla che ha acceso il fuoco di Ali. Mohammed Ali è diventato famoso nel mondo per la sua grande abilità come pugile e per molte è stato riconosciuto come il pugile più importante della storia. Nonostante ciò, i suoi incontri più difficili non sono stati quelli contro lo storico Joe Frazier, ma quelli contro il razzismo che l'ha accompagnato per quasi tutta la sua vita. Ed è chiaro, mentre distruggeva i suoi rivali sul ring, combatteva anche contro il razzismo di quell'epoca. Non riusciva a togliersi dalla testa la domanda, perché tutto ciò che era buono era bianco e tutto ciò che era cattivo era nero? Gli esempi che Ali dava nell'intervista volevano solo dimostrare i pensieri che ha in testa un bambino afroamericano, ma che nonostante l'innocenza delle sue parole, era molto vicino alla realtà che vivevano migliaia e migliaia di persone. E per questo, per la rabbia accumulata durante tanti anni, il pugile rispondeva in questo modo alla donna del pubblico. Inoltre, nonostante fosse già abbastanza conosciuto, Mohammed Ali aveva eleganza, come quando era stato discriminato in un ristorante della Louisiana, dove gli afroamericani non potevano mangiare nel centro della città, dopo aver vinto la medaglia d'oro nei giochi olimpici di Roma, rappresentando gli Stati Uniti. Io sono la medaglia d'olimpica, e tre giorni fa ero per questo paese in Roma, ho vinto la medaglia d'oro e ho cominciato. Il manager ho ho detto di dire il manager, e lei dice, io non sono il ragazzo, non è il ragazzo, non è il ragazzo di andare. Inoltre, c'è il ragazzo di non era questa classe di personaggio, che la sua immagine la costruzione sull'immagine sull'immagine di cose che gli arrivano a la gente, perché aveva l'intelligenza, doveva arrivare a la gente con un mensaggio di rebeldia. La cosa certa è che il multicampione ha lottato fino ai suoi ultimi giorni contro il razzismo e per le rivendicazioni degli afroamericani, perché Lee non affrontava Fraser o Sonny Liston, ma combatteva contro una società che considerava gli afroascendenti degli esseri inferiori. Nonostante ciò, così come faceva sul ring, Ali lo ha affrontato a testa alta, diventando così un referente e un leader nella lotta per le parità dei diritti. Grazie!